Correrà per il terzo mandato, alle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi, il sindaco uscente di Fossa Cesia Enrico Di Giuseppe Antonio. Una decisione maturata al termine della riunione tenuta dal gruppo di maggioranza per Fossa Cesia con Enrico Di Giuseppe Antonio Sindaco, resa possibile dal decreto legge in materia di elezioni che estende il numero dei mandati per i comuni fino a 15.000 abitanti. In questi anni ho cercato di metterci una passione, a volte anche smisurata, per consentire ad una località come la mia, che poi ha questa anche vocazione turistica, di poter degollare. E ho creato un modello che va conservato, tutelato e rafforzato. E quindi anche sollecitato dall'amministrazione comunale uscente, ma soprattutto da tanti cittadini, ho deciso di continuare questo percorso per Fossa Cesia. Abbiamo un programma che siamo riusciti ovviamente a completare in parte. In questo ultimo quinquennio abbiamo avuto il problema della crisi energetica, ma del Covid e dell'aumento anche sproporzionato dei costi, che è un aumento che ha messo in ginocchio molti comuni italiani. Una delle cose più interessanti che in questi ultimi anni ho raccolto e ho apprezzato è che i giovani vogliono fare investimenti. C'è un ritorno anche a fare attività iniziative che possano ovviamente con l'impresa dei giovani nel turismo dare spazio. Poi abbiamo molte opere pubbliche da completare, ci sono stati gli anni del PNRR, che hanno prodotto ai comuni dei risultati per via dei finanziamenti che abbiamo ottenuto. Si ricandida questo gruppo assieme ad altri e andiamo un po' a rafforzare anche la passione di chi si vuole candidare e di chi vuole partecipare al successo della nostra località. In fondo, torno sempre a ribadire, metto assieme quelli che intendono la politica al servizio degli altri e per dirla con un grande Papa che sia veramente una delle forme migliori della carità umana. Chi fa politica lo fa per tutti.